Anche se in versione online torna quest'anno Veneto Night, l'evento che fa scoprire il mondo della ricerca al grande pubblico. Oggi siamo, anche se virtualmente, al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali Marco Fanno dell'Università di Padova, in compagnia delle professoresse Valentina De Marchi e Eleonora Di Maria. Allora, vi do il benvenuto e vi pongo subito la prima domanda. Voi vi occupate di catene globali del valore. In primo luogo, che cosa sono e soprattutto come la pandemia da Covid-19 ha modificato questo modello economico? Il concetto delle catene globali del valore ci aiuta a capire come i prodotti che consumiamo e il modo in cui viviamo sono cambiati negli ultimi 30-40 anni. Se noi avessimo preso e guardassimo i prodotti che consumavamo negli anni 70, negli anni 80, circa il 10% delle componenti sarebbero probabilmente state importate. Quello che abbiamo invece adesso è che nella maggior parte dei prodotti che consumiamo c'è una buona parte di componenti che provengono da altri paesi, che sono stati realizzati da fornitori che non sono in Italia ma sono all'estero. Questo cambiamento ha fatto sì che appunto entro ogni prodotto ci sia 10-20 paesi che contribuiscono in qualche modo. Il concetto della catena globale del valore ci aiuta a capire questa nuova geografia della produzione. Una geografia che è fondamentalmente basata sulle relazioni tra imprese diverse che anche se localizzate in paesi diversi, anche se imprese indipendenti, lavorano in maniera coordinata e questo coordinamento avviene grazie ad alcune imprese che hanno un ruolo particolarmente importante in queste catene globali del valore che vengono chiamate aziende leader. Sono le Nike, le Ikea, le Apple di turno che determinano cosa va prodotto e come va prodotto e quindi definiscono quelli che sono gli standard di produzione che andranno poi a influenzare le attività di tutti quei fornitori, quelle imprese che andranno a contribuire realizzando singoli componenti o assemblandoli poi e andranno a contribuire quindi al prodotto finale. Se andiamo a capire in che modo la pandemia ha avuto un impatto sulle catene globali del valore dobbiamo avere in mente che questo processo di internazionalizzazione ha riguardato in modo particolare la manifattura, cioè nel corso degli anni attività produttive di quelle di cui parlava Valentina De Marchi sono progressivamente spostate in buona parte soprattutto per prodotti che erano all'inizio molto poco complessi, pensiamo per esempio ai giocattoli, fino a prodotti veramente di alta tecnologia come i nostri smartphone, da i paesi più avanzati come l'Europa e gli Stati Uniti verso la Cina, il Far East, verso paesi a più basso costo del lavoro. Questo processo di internazionalizzazione però ha fatto crescere le competenze, l'innovazione e oggi i paesi come la Cina sono in grado di produrre una quota molto considerevole di una quantità sempre più ampia di prodotti. Questo ha consentito una divisione del lavoro che per molto tempo ha avuto successo quindi i paesi come l'Europa o come gli Stati Uniti si sono concentrati sul design per esempio sulla gestione della marca e altri paesi nel mondo si sono specializzati nella produzione manifatturiera. Questo ha consentito di crescere e di svilupparsi però cos'è successo con il Covid-19 con la pandemia? Sono emersi anche una serie di limiti di questa eccessiva dipendenza, ci si è accorti e lo si è visto in maniera evidente appunto durante la pandemia, di questa dicevo eccessiva dipendenza dalla produzione di beni fisici da alcuni paesi. Quando con lo stop dei flussi internazionali, quindi del commercio, quando non è stato più possibile per esempio da parte dell'Italia piuttosto che della Francia o degli Stati Uniti importare i beni provenienti per esempio la Cina, questo modello che ha rappresentato un elemento di crescita è entrato in qualche modo uno dei temi che è nel dibattito è la capacità, la possibilità per le imprese, si parlava di imprese leader ma anche di paesi quindi secondo una logica più di politiche, di rilocalizzare l'attività, si parla per esempio di reshoring, si parla di avvicinare la produzione verso il mercato. Uno degli elementi infatti delle catene globale del valore è che c'è una divisione del lavoro molto chiara però ci sono anche dei tempi che molto spesso sono molto lunghi tra la fase di diazione di un prodotto negli Stati Uniti e la sua realizzazione poi, quindi un tempo logistico che sempre più soprattutto in contesti di crisi come quello della pandemia richiedono di essere in qualche modo ripensati. Un altro elemento però che rappresenta anche una criticità è la valutazione delle competenze, se progressivamente nel tempo abbiamo in qualche modo come paesi diciamo così più avanzati lasciato che paesi diciamo in via di sviluppo e poi sono diventati emergenti o sono totalmente diciamo competitivi come la Cina si specializzasse nella produzione manifatturiera abbiamo in parte perso una serie di competenze che devono essere in qualche modo ricostruite. L'Italia e la Germania per esempio sono più avanti e hanno come dire essendo paesi i manifatturieri hanno comunque un livello di competenze ancora buoni però più in generale se noi andiamo a guardare la globalizzazione oggi effettivamente una domanda è capire fino a che punto paesi che hanno lasciato che altri producessero diciamo così per loro possano ricostruire o meno in tempi brevi questo processo diciamo di produzione che poi è legato anche a processi di innovazione. Sia i consumatori che i produttori oggi guardano molto a due aspetti fondamentali alla sostenibilità del prodotto e anche poi alla digitalizzazione del lavoro. Secondo voi questi due aspetti fondamentali come possono essere integrati nel futuro economico dei paesi? Come dicevi questa maggiore attenzione alla sostenibilità è decisamente un aspetto fondamentale che sta influenzando il modo in cui le imprese pensano i prodotti che andranno a realizzare e anche come li comunicano il modo in cui i vanno a vendere e questa maggiore attenzione del consumatore si combina anche con una maggiore consapevolezza delle imprese perché perché il tema delle risorse in particolare diventa sempre più centrale per le imprese. Il modo in cui abbiamo usato le risorse e qui intendo l'aria, l'acqua, il legno tutte le materie che la terra ci mette a disposizione ecco il modo in cui le abbiamo utilizzate fino purtroppo pochi anni fa è stato assolutamente di usarle male di sprecarle perché abbiamo sovrautilizzato le risorse quindi andando a ridurre la possibilità poi del pianeta di ricreare quelle stesse risorse ma anche perché poi alla fine della vita utile del prodotto non abbiamo valorizzato le risorse che ne facevano parte ad esempio riutilizzandole o riciclandole. Ecco questo contesto ha portato a una situazione in cui c'è una scarsità di risorse proprio quelle risorse di cui le imprese hanno bisogno poi per realizzare i prodotti che noi andiamo ad acquistare quindi la maggior consapevolezza dei consumatori che vogliono condizionare le scelte delle imprese attraverso il proprio portafoglio si dice no? Quindi con le proprie scelte d'acquisto e questa maggiore percezione della scarsità crescente di risorse porta sempre più imprese ad essere sostenibili. Si discuteva prima del fatto che nelle catene globali del valore sono state un fenomenale opportunità di sviluppo economico in molti paesi. La domanda adesso è se e come sia possibile che diventino anche un canale per uno sviluppo che sia anche sociale e ambientale quindi uno sviluppo sostenibile non solo economico. Chiaramente questo binomio non è scontato. Non è scontato che le catene globali del valore portino anche a una crescente richiesta di vantaggi sociali e ambientali a livello locale. È vero però che la maggior parte delle imprese leader di cui parlavamo prima che un po' guidano le attività delle catene del valore hanno messo in piedi una serie di attività per andare in questa direzione. Quindi sempre di più le imprese che fanno parte di queste catene globali percepiscono anche richieste specifiche di standard di tipo sociale e ambientale rispetto alle proprie attività. Quindi sono tra virgolette forzate a riconsiderare in ambito di sostenibilità le proprie attività. Abbiamo già fatto abbastanza la velocità con cui questo cambiamento sta avvenendo è sufficiente. Ecco queste sono certamente domande aperte a cui non siamo ancora in grado di dare risposta. Quello che si può dire è che certamente questa è la direzione giusta. Quindi immaginare di utilizzare questa nuova forma di organizzazione del lavoro che è emersa negli anni passati è certamente fondamentale per poter contribuire a raggiungere poi quei grandi obiettivi di sostenibilità che le Nazioni Unite ci hanno detto devono diventare un mantra per le attività economiche e produttive. Se noi leggiamo il binomio digitalizzazione e globalizzazione vediamo che questo dialogo è sempre stato particolarmente interessante e adatto in realtà a percorsi non scontati. Se noi oggi pensiamo alla digitalizzazione e più in generale ai processi di automazione si diceva prima le risposte sono ancora tutte da scrivere. Nel senso che oggi i processi di digitalizzazione che supportano l'organizzazione e la produzione globale, le vendite a livello internazionale sono molto diverse. Abbiamo l'intelligenza artificiale che può aiutare a coordinare anche e rendere efficienti processi di vendita, di rapporto con il cliente e anche di produzione internazionale non necessariamente quindi spingendo verso quei processi di reshoring di cui parlavo. Abbiamo tecnologie come la manifattura additiva che può consentire alle imprese per esempio di produrre molto vicino al cliente e quindi pensare a una produzione della Cina per la Cina, della Germania per la Germania o piuttosto degli Stati Uniti per il contesto diciamo nordamericano. Ci sono altre tecnologie come quelle legate alla robotica e all'automazione che hanno ancora diciamo così impatti ambivalenti. Da un lato si dice che l'automazione può consentire anche a paesi che non hanno tanta forza lavoro, quindi ai robot, di poter comunque produrre così come avviene per esempio anche in Cina, ma allo stesso tempo la robotica ha una serie di limiti. Non tutte le produzioni, si pensi alla produzione su misura, le produzioni legate anche al contesto artigianale della personalizzazione che caratterizzano il Made in Italy possono essere realizzate a livello diciamo così con l'automazione in senso stretto con la robotica. Quindi il rapporto diciamo se possiamo dire rapporto tra digitalizzazione e percorsi globali nell'epoca post-Covid sono ancora molto diversi. C'è sicuramente l'esigenza da un punto di vista delle imprese di prendere consapevolezza del fatto che la digitalizzazione aiuta sia l'efficienza e quindi ridefinisce il vantaggio nel localizzare una produzione in un luogo piuttosto che in un altro, ma aiuta a gestire in maniera intelligente anche molli di dati via via sempre più ampi che possono aiutare a rendere più consapevole e soprattutto a gestire in maniera più interattiva i rapporti con il mercato. In questo senso il rapporto tra grandi e piccole imprese che ha caratterizzato diciamo con uno sbilanciamento verso le grandi, le catene globali del valore possono consentire di rimettere in gioco anche le piccole imprese, per esempio anche i distretti industriali e questo sarà un percorso interessante da osservare nel prossimo futuro. Ringrazio la professoressa De Marchi e Di Maria per questo approfondimento sul mercato economico, sul mondo economico sia odierno che del futuro. Vi ringrazio ancora e vi auguro buon lavoro e buona ricerca. Grazie a tutti. Grazie a tutti.